Samotere. Salone internazionale triennale, macchine e movimento terra, da cantiere e per l'edilizia. Prossima edizione, dal 2 al 6 marzo 2011. Samotere. Il palcoscenico internazionale per il mondo delle costruzioni, luogo privilegiato di analisi e scambi commerciali. Samotere. Piattaforma ideale di incontro e confronto tra i diversi protagonisti della filiera delle costruzioni e degli operatori del settore più qualificati a livello internazionale. Samotere. Partner di imprese e associazioni di categoria, punto di riferimento e motore per lo sviluppo del sistema industriale internazionale. Samotere. Un continuo work in progress nel mondo delle costruzioni, tra edilizie, infrastrutture e grandi opere. Uno sguardo a Samotere 2008, tenutosi a Verona dal 5 al 9 marzo 2008. La 27esima edizione si è chiusa con il raggiungimento di importanti traguardi, confermandosi manifestazione leader del settore e offrendo a espositori e visitatori numerose novità. Oltre mille espositori provenienti da 37 nazioni. Un'affluenza complessiva di oltre 100.000 visitatori nei 5 giorni di manifestazione. Un lavoro di oltre 3.000 persone che per 16 giorni hanno allestito un totale di 350.000 m2 di quartiere. 130.000 m2 di superficie espositiva netta, dedicata a 8 settori merceologici e una nuova area dedicata al noleggio. Tre nuovi padiglioni per un totale di 33.000 m2 coperti rispetto alla precedente edizione 2005. 20.000 m2 dedicati alla demo area, dimostrazioni pratiche di macchine a lavoro, prove di abilità e spiegazioni tecniche in un cantiere a cielo aperto per toccare con mano le novità presenti in fiera. Nuovi parcheggi per un totale di 14.000 posti auto. Un investimento complessivo di 1.800.000 euro in promozione, comunicazione ed eventi internazionali. Novità assoluta per l'edizione 2008 è stata la nascita dei Samotere Special. Percorsi dedicati ai singoli settori merceologici a cui hanno corrisposto una o più giornate a tema. I Samotere Days. Momenti di approfondimento che hanno affiancato i percorsi tematici tramite eventi dinamici, seminari e convegni. Oltre 40 convegni e seminari specialistici. Anteprime e conferenze stampa presentate dagli espositori. Eventi collaterali e show alla demo area. Un calendario ricco di incontri formativi e di aggiornamenti reso possibile grazie alla preziosa organizzazione e collaborazione del Comitato di Indirizzo e del Comitato Scientifico. Anche la 27esima edizione ha visto la consegna di due prestigiosi premi internazionali. Il Samotere International Award che dal 1973 riconosce il lavoro di quanti si adoperano per far crescere e consolidare il sistema costruzioni attraverso opere significative e progetti tecnologicamente avanzati. In questa edizione hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento per la categoria Stati Esteri Panama con il progetto di allargamento del canale. Per la categoria Progettisti Geodata SPA. Nella categoria Costruttori Macchine premiate le aziende Merlo SPA e Officine Meccaniche di Ponzano Veneto SPA. Per la categoria Imprese Italiane Gruppo Ghella SPA e per la categoria Imprese Estere Acciona SA Spagna. E il concorso internazionale Novità Samotere, il quale fin dal suo esordio nel 1964 premia le case costruttrici e spositrici per le innovazioni costruttive e funzionali introdotte nella loro produzione. Per l'edizione 2008 premio assegnato a Non Stop System di Officine Meccaniche di Ponzano Veneto SPA e menzioni speciali alle aziende Soilmec SPA, Comacchio SRL, JSRL e Gianluca Malacrino. Dal 2006 Samotere è protagonista anche all'estero con l'iniziativa itinerante Samotere Tour, che si propone quale efficace supporto ai processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese manufatturiere italiane del macchinario per le costruzioni. Samotere Tour è una delle iniziative supportate dall'associazione Comma Motor e dal progetto Cielab, Construction Equipment Lab. Una pluriannale collaborazione tra Verona Fiere, l'associazione di categoria Ugo Mesa e Unicredit Corporate Banking. Per il sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI italiane, del settore macchine da cantiere e per le edilizie. La sinergia tra i vari partners rappresenta l'aspetto più innovativo e la chiave del successo dell'iniziativa. Si è visto a Samotere 2008 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.